L'Umbria sarà una delle prime regioni, se non la prima, in cui si realizzerà l'integrazione totale tra ferro e gomma. Lo ha affermato oggi a Perugia il direttore della divisione passeggere regionale di Trenitalia, Orazio Iacono, annunciando che già nel prossimo dicembre si vedranno i primi risultati concreti con l'obiettivo dell'integrazione tariffaria. Si tratterà, è stato spiegato nel corso della conferenza stampa di questa mattina, per l'illustrazione del contratto di servizio tra Regione Umbria e Trenitalia di integrazione modale tariffaria e di vendita. Il 2015 è stato un anno positivo perché abbiamo visto che la soddisfazione del cliente è migliorata, è migliorata di 4 punti nel complesso, di 7 punti nella puntualità, di 8 punti nella pulizia e di 3 punti sull'informazione. Dobbiamo migliorare sicuramente perché è un settore ancora in sofferenza, la nostra priorità è migliorare il trasporto pubblico locale e a dicembre abbiamo avviato una nuova forma di integrazione con la gomma perché riteniamo che la sfida del trasporto pubblico locale si può vincere lavorando insieme ferro e gomma. Il nuovo contratto di servizio tra la Regione Umbria e Trenitalia, che sarà valido fino al 2020, ha un valore economico complessivo di 341 milioni di euro e definisce le caratteristiche principali dell'offerta ferroviaria regionale. Questo è il commento dopo la firma dell'assessore Chianella. Il nuovo contratto su ferro con Trenitalia che ha una durata di 6 anni, l'amministrazione regionale ovviamente è soddisfatta di questa definizione appunto del contratto, non era cosa scontata, ci sono delle novità, nel senso che sono stati riconfermati, implementati i chilometri a suo tempo nel precedente contratto concordati, sono stati riviste e potenziate alcune tratte soprattutto sulla Foligno Maggione, anche in corrispondenza ne abbiamo già dato conto di questo programma sul giubileo e soprattutto abbiamo inserito dei meccanismi che produrranno maggiore qualità del servizio appunto intervenendo sulle sanzioni, sulle premialità appunto rispetto a determinati standard di esercizi.